Come la motivazione sta scendendo all'interno delle classi e abbiamo cercato delle strategie, dei progetti che riportassero in alto la motivazione allo studio, ma soprattutto al buon andamento. Il buon andamento è il motore di questo nostro progetto. 40 gli studenti che verranno premiati per il loro rendimento scolastico, ma soprattutto per la loro condotta. È l'iniziativa dell'Istituto Fossombroni Buonarroti di Arezzo per promuovere, attraverso una spinta positiva, un impegno sempre maggiore nello studio. Per meritarsi il premio devono avere una media almeno del 7,5 e il voto in condotta pare almeno a 9, meglio se 10. Questo perché abbiamo voluto creare una piccola e sana competizione tra i ragazzi, però abbiamo voluto puntualizzare che non basti il profitto buono o ottimo, bisogna anche però avere un comportamento irreprensibile. Gli studenti saranno destinatari di piccole borse di studio dai 100 ai 300 euro. Sono tanti progetti a questa età che vorremmo fare, quindi un aiuto in più fa sempre piacere, soprattutto dalla scuola che comunque può dare questi riconoscimenti. La premiazione avverrà il 19 di maggio all'interno delle classi proprio per dare quel messaggio positivo che servirà a tutti gli altri ad impegnarsi sempre di più. A mio parere è una cosa veramente molto importante quando qualcuno elogia o comunque premia per gli sforzi, motiva insomma a continuare, è senz'altro importante. Sì, 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 sì. Un gritto vuoto. Sì.